Ecco Ho senso dei versi Che sono sti versi? Guarda c'è il fish spa E' questo qua sotto Guarda c'è un coccodrillo C'è il fish spa Che cos'è? Lo vediamo dopo Il fish spa Che cos'è? Ti puliscono Ti puliscono Wow No veramente Prima cosa salga su quel coso Minchia Ma ci vediamo dopo Raga non so cos'è sta roba È una tipo palude di coccodrillo Non ci metti i piedi Raga Tra poco ce ne andiamo Per andare su quel coso lì Una fatica assurda C'è il copyright Andiamoci noi da qui Na 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 C'è il copyright Mi chiudo nel canale Now Io spegno il telefono Perché se no Spendo la voce Poi si consuma La mia voce Non so Cosa sto dicendo Na 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 Che cazzo sto dicendo Na 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 Ragazzi ce ne stiamo andando Nella playa mia Dal Messico Domani Besin Qui per esempio ci sono proprio andato Sono andato solamente in spiaggia Però vabbè Quindi Mmm Bel posto Vabbè ci vediamo domani A Besin Ma che è? Che cos'è? Che cos'è? È il percorso che si muove Roberto Che cos'è? Che cos'è? Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Si chiamava Ostex Quindi penso di sì Ma buone Che cos'è? Che cos'è? Prima di salire sulla nave Ce ne andiamo qui C'è un giletto nel terminal Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ma le maschere di... E questo è? Ma sono veri sti cose Un figato Grazie a tutti E c'è anche il nero No grazie No No Non ci Ma no Non sapevo che erano stati No no e che devo fare col gufo Appunto andiamoci E ce ne andiamo Ma ma sono dieci metri perché hai preso il taxi Il taxi Ma dai io non ci credo C'è due metri quel coso però eh Due metri Due C'è manca a dire è piccolo no due metri Madonna Sto pisciando sotto C'è un branco di pesci enorme qua sotto Però non si vede l'alteco Ci vediamo a Besil Nel prossimo video A Besil Mi pare sempre Messico Sì sì È del sud del Messico A Besil Quindi farà ancora più caldo Io sul sud stando fermo La troppo Non che mare Bellissimo L'unico mare che mi è piaciuto fino a poco A parte quella della prima tappa C'è un coperto Cosa ci vediamo a Besil Di mandato il cesso Ragazzi ma Quei l'altec E questa è Certo Sta star riscendo l'unico è che oggi non possiamo scendere alcune sostanze sono anche state annullate per via del maltempo e poi diciamo alcuni cazzo anche di stare curioso di vedere se scende il monzo c'è una striscia c'è anche una striscia lì dove fanno finire e basta questo è ma che cazzo quindi oggi mi intervisti che non sta a sperimentare sulla nave listi cazzi e vabbè dappacchiamo è